Questo finale per Roman, come è andato? Roman è in grandissima condizione Noi speravamo in lui, poi comunque adesso abbiamo visto che ha grandissime possibilità Ha un grandissimo motore Vediamo comunque il giro è lungo La squadra, abbiamo una grandissima squadra, speriamo di riuscirlo a supportare Con la fine del giro Come previsto la salita non ha fatto molta differenza Però ha fatto vedere magari chi è in condizione e chi no No guarda, non è vero perché comunque nel finale essendo avendo contro è possibile attaccare Quindi si è visto che con tanti corridori le gambe le andano così così Vedo una grandissima condizione contro la Toro, Scarponi e tutti contro la Lanza Grazie